Ciao tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con Caravan Schiavolin e quindi con Roberto Schiavolin. Ciao! Ciao Rosi, ben ritrovati tutti. Allora, come è giusto che sia, in questa puntata ci presenteremo come azienda, perché non ci conosce, e presenteremo i nostri prodotti. Ma mi piacerebbe arrivare nel cuore delle persone e far capire quanto è fantastica questo tipo di vacanza con i veicoli creazionali, camper, caravan, nuovi, usati, di ogni genere. E, che dire, è una vacanza intelligente e bella. Allora, parliamo di bella nel senso che andiamo all'aria aperta, andiamo via con i nostri cari e abbiamo la fortuna di non dover prenotare, di non dover andare a pensare prima cosa fare e cosa non fare. Si ha il proprio mezzo, il proprio veicolo creazionale, si salta su e si va. È molto. È un'avventura, momento per momento, si potrebbe decidere di andare a destra invece possibile a sinistra, perché c'è una manifestazione, c'è un posto molto bello, insomma, è una vacanza molto libera e questa libertà viene recepita da tutti i bambini che si trovano nella loro piccola casa, dalle mogli, insomma, da chi deve gestire la famiglia. Quindi per mangiare avete il proprio bagno, avete la propria cucina, potete cucinare dentro o andare a mangiare fuori, potete fare quello che volete. Avete il vostro letto, le vostre coperte, poi un discorso anche di, non solo libertà, ma anche di sicurezza, insomma, come abbiamo visto negli anni precedenti, ed è anche questo un motivo perché il nostro settore sta andando molto bene. Oltretutto è un investimento intelligente, come dicevo prima, perché intanto il veicolo si può cominciare con un veicolo usato, si può cominciare, e poi se la cosa è positiva, passare a un veicolo nuovo e ci sono metri di pagamento che consentono alla famiglia di avere un veicolo ricreazionale per andare in vacanza tutto l'anno, quando si vuole, e che non perde valore nel tempo, oltretutto, e pagandolo pian pianino. Quindi i soldi che magari una famiglia spende per due o tre ponti, due o tre weekend, e le vacanze di quei 15 giorni magari ad agosto, ecco, se lo ripaga e alla fine ha sempre un veicolo che ha un valore, e se dovesse smettere di utilizzarlo, può rivenderlo e incamerare di nuovo un bel ruzzoletto. Insomma, vacanza intelligente in tutti i modi. Tanti già ci conoscono come azienda, tanti conoscono già il nostro settore, ma per quelli nuovi, ecco, noi siamo qui a vostra disposizione. La nostra azienda è da, quest'anno facciamo 45 anni. Ah, che bel compleanno, 45. 45 anni e siamo ormai alla terza generazione. Quindi mio padre, io, e adesso ci sono le nuove leve in azienda. Sì, conosciamo qualcuno che vediamo anche durante la trasmissione, e sono sicura, Roberto, che tu e naturalmente anche i tuoi collaboratori farete innamorare, perché questa è la parola che volevi usare, innamorare tutti su questo modo nuovo, intelligente, di fare vacanza. Da Caravan Schiavolin troverete ben otto marchi rappresentati, che sono selezionati tra i migliori marchi in Europa. Qui siamo in uno dei quattro spazi espositivi della Caravan Schiavolin, e qui trovate tutti i veicoli della Jotty Line, che è un produttore italiano di proprietà del gruppo Rapido. Qui vedete dei van, dei semi-integrali, dei mansardati, e questi veicoli li troverete anche, a proposito, nella nostra flotta di noleggio, perché uno degli altri servizi che diamo è quello del noleggio, e quindi se qualche potenziale cliente, insomma, volesse cominciare a provare questa esperienza di vita, di vacanza, con un veicolo ricreazionale a noleggio, da noi può farlo. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito, dove trovate i veicoli, i listini, i periodi, insomma, tutte le informazioni, e se mai, ecco, potete venirci a trovare, toccarli dal vivo e chiedere spiegazioni alle nostre collaboratrici. Sempre sul sito troverete tutti i veicoli, o presenti in casa, o in arrivo, con tutte le specifiche foto. Dato che il tempo qui stringe, sicuramente non potremo farvi vedere o spiegare nel dettaglio tutti i veicoli. Come potete vedere, alla mia sinistra, ecco, diciamo, ci sono questi qua che si chiamano semi-integrali profilati, che sono dei veicoli che hanno dai 3, 4, 5 posti letto e viaggio, anche con letti basculanti. Alla mia destra, invece, trovate dei van, anche questi ne abbiamo di diverse misure, dai più compatti, 5, 40, fino ai 6, 30, e hanno 3, 2, 4, 5 posti anche loro a viaggiare e a dormire. Mansardati sono categorie, insomma, che tutti, insomma, anche, viene conosciuto un po' da tutti, perché sono quelli che si sono sempre visti, specialmente qui in Italia, hanno letto anche in mansarda e sono disponibili anche loro a noleggio e nella vendita. Per darvi una completezza di gamma rispetto a quelli che abbiamo visto fuori i veicoli, che erano dei van, dei semi-integrali, dei mansardati, ecco, qui vi possiamo far vedere, invece, in questo salone, quello che può essere un van, ma col tetto soffietto, quindi con, praticamente, la possibilità di avere un altro letto matrimoniale matrimoniale nella parte superiore, quando si alza, appunto, il tetto soffietto. Qui di fianco vedete un altro mansardato e, a competenza di gamma, qui, ecco, ritroviamo un paio di, anzi, tre motorhome, che sono l'altra tipologia di veicoli, di veicoli ricrazionali che potete trovare qui da Carro a Schiavolina. La particolarità del motorhome è che, come vedete, la cabina, la motrice, il cabinato davanti, non si vede nella sua naturalezza, insomma, ma viene modificato, viene ingolbato da quella che è la cellula da parte del costruttore e permette questo di avere un letto basculante che scende giù nella parte interiore, quindi un comodo letto matrimoniale a un'altezza molto bassa. E vorrei sottolineare una cosa, secondo me, molto importante. In azienda abbiamo tantissime decine di veicoli nuovi e altrettanti di veicoli usati. I mezzi sono qui in pronta consegna, venite a vederli, a valutarli e a parlare con i nostri collaboratori, quindi non li scegliete da catalogo, ma li toccate, li salite sopra, li provate e, anzi, provarli, potete anche provarli su strada con i nostri collaboratori se volete provare, guidarne uno o una tipologia piuttosto che un'altra. Ecco, qui ci troviamo invece nel salone Cartago e Rapido, che sono i marchi top di gamma tra quelli che, vi dicevo prima, tra gli otto che noi rappresentiamo, sono tedeschi, sono francesi, anche qui li troviamo in varie versioni, quindi semi-integrali e motorhome e qui di fianco abbiamo il van della Cartago che si chiama Malibu. Ecco, voi adesso immaginate, questa è una piccola rappresentazione che abbiamo messo qua con la veranda, la solita esposizione che presentiamo qui in sede, immaginate qui adesso un tavolino delle sedi del dryer, il mare di fronte a voi, le montagne, insomma, è una magia e potete farlo quando volete, come volete, cominciando con il noleggio, cominciando con un usato, cominciando con il nuovo, insomma, l'importante è prendere e cominciare con questa vita, venite a trovarci. Camper d'occasione, come vedete ne abbiamo qui alla mia destra, sono già dei veicoli pronti, preziati, li trovate sul sito, potete venire a vedere, potete acquistarli e così via. Qui alla mia sinistra invece ce ne sono due, quattro, sei, otto appena arrivati che dobbiamo ancora preparare e controllare per metterli in vendita. Sì, perché noi li controlliamo, li prepariamo con ben 200, pensate almeno 200 controlli, perché non è come una piccola vettura usata, è una casa con impianti dell'acqua, del gas, della luce e in più, è elettrodomestici, frigo, stufa forno, boiler e in più c'è anche la meccanica, quindi è un mezzo abbastanza complesso per essere preparato veramente bene, per poterlo poi chiamare occasione, altrimenti rimane secondo me un usato, con tanti punti di domanda e quindi sapete gli annunci dei privati piuttosto che i commercianti insomma o il camper messo a posto dal cugino, insomma sono soldi che giustamente dovete spendere bene. A me non è che vi possiamo accontentare tutti, però chi ci viene a trovare, chi ci viene a conoscere, chi viene a scegliere il nostro mezzo, sa che cosa si potrà portare via. Questo lo facciamo anche grazie e possiamo farlo noi, a differenza di altri colleghi, grazie alla nostra ufficina che è di ben 20 postazioni di lavoro con 4 ponti ed è una delle più rosse, forse la più rossa in Italia, quindi possiamo farlo grazie alla nostra ufficina che abbiamo tanti posti e tanto personale specializzato, qualificato per poter controllare i veicoli nuovi, accessoriarli, montare gli accessori e darvi tutta l'assistenza del caso, parlo dei nuovi ma anche degli usati, quindi preparare i nostri usati e farvi comunque manutenzione e assistenza anche se non siete i nostri clienti, venite a trovarci, venite a servirvi della nostra ufficina, ci farete senz'altro piacere. Qui alla mia destra, adesso Buongianni ci farà poi dei filmati, c'è un Wingam d'occasione, è un 2022 addirittura 9.000 km Ducato con 180 cavalli, cambio automatico, letto gemelli, letto basculante. Vi faccio vedere solo questo ad esempio come occasione, ma perché è uno dei prodotti, uno degli otto marchi che noi trattiamo e nelle precedenti immagini non ho potuto farvelo vedere perché in questo momento siamo senza, ma a brevissimo stanno arrivando, quindi un veicolo molto particolare, è un monoscocca in vetto resina, è quindi distruttibile, è caldissimo, è freschissimo, è termoisolato anche per il rumore, insomma mezzo molto molto particolare da venire a vedere o guardateli sul sito. Volevo farvi vedere anche il nostro grandissimo e fornitissimo market, ma non c'è il tempo. Vi do due piccole informazioni veloci su quanto riguarda il discorso del pagamento dei veicoli, sia nuovi che usati, finanziamenti fino a 130 mesi, leasing, aziende privati, con riscatto finale addirittura, quindi insomma ogni formula verrà studiata sulle necessità del cliente. Altra cosa molto importante, acquistiamo camper, quindi se avete un veicolo che non utilizzate più, insomma contattateci sul sito, trovate tutto, c'è uno spazio dedicato per poter inserire informazioni, foto e quant'altro e vi risponderemo dandovi la valutazione, o dovremo vederlo a casa vostra o ce lo porterete, se non andiamo d'accordo ve lo possiamo mettere in conto vendita, insomma siamo specialisti del settore, quindi se avete necessità di vendere un camper senza prendere ferrature, senza dover inserzionarlo voi o avere timore di non prendere soldi o altro, insomma affidatevi a un'azienda come la nostra. Non legge l'abbiamo già parlato, insomma venite a trovarci perché solo qui vi renderete conto di quanto è bello questo mondo e noi vi aiuteremo a far sì che diventi anche il vostro mondo. A presto!